Gentili telespettatori, buona giornata. Schlein dice che è sconcertante che la Meloni sia stata ingannata dai russi e dice che ciò che è successo è piuttosto sconcertante per il governo e per l'Italia. Lo dice a proposito dello scherzo telefonico fatto a Giorgia Meloni da due comici russi. Attenzione, dicono che è uno scherzo telefonico fatto da due comici ma potrebbe non essere così, potrebbero essere i servizi segreti che hanno contattato la Meloni facendo finta di essere un capo politico africano per fargli una specie di interrogatorio al quale lei ha risposto a tutte le domande, domande proprio anche sui russi, sull'Ucraina. Poi visto che lei ha risposto a questo interrogatorio e ha detto le stesse cose che dice in pubblico, questo audio non è servito poi a nulla. Allora può essere che i servizi russi lo abbiano passato a due comici dicendo guarda a noi non serve utilizzatelo voi facendo fare una figura all'Italia che due comici sono riusciti a interrogare il capo del governo italiano. Quindi che sia uno scherzo telefonico fatto a Meloni da due comici russi ho i miei forti dubbi. La Schlein dice ciò che è successo è piuttosto sconcertante per il governo e per l'Italia. Non ha funzionato l'attività di filtro e verifica preliminare alla telefonata ponendo in serio imbarazzo il nostro paese. Non basta la nota di spiegazione di Palazzo Chigi, è necessario che il governo rassicuri Parlamento e paese affinché situazioni di questo tipo che rischiano di mettere a pregiudizio la nostra immagine e il nostro profilo politico sul piano internazionale non si verifichino più. La colpa non è della Meloni, la Meloni si è fidata dell'apparato di sicurezza anche intorno a lei. Tu ti devi fidare a un certo punto, che fai? Passiamo una telefonata del capo di Stato Cippalippa che vuole parlare con lei. Cosa deve farla Meloni? Fa le verifiche lei da sola? Va di là nell'altra stanza? Allora avete controllato il telefono, siete sicuri che quello lì è un capo di Stato? Non è che mi fate fare una figura la domanda è è così facile raggiungere il capo del governo italiano facendo uno scherzo telefonico? Buondi! E lei fantozzi? Ecco, faccio l'accento svedese, metta la patata in bocca Buondi! Buondi! E lei fantozzi? Clicca. Bene, è così facile fare uno scherzo telefonico a Meloni? Al capo del governo? È così facile dire... Allora, sono stati i servizi segreti russi? Sono stati davvero due comici? Sta di fatto che uno scherzo o una telefonata fasulla è arrivata all'orecchio della Meloni. Ma chi è che doveva controllare? Ma non ditemi che deve controllare la sua segreteria, non è la segreteria della Meloni, lì ha due donne che non mi ricordo due fedelissime della Meloni, ma non sono loro che devono controllare queste cose qua i controlli sono dei controlli che dovrebbero essere con sistemi sofisticati di intercettazioni di telefono, fatti da apparati di sicurezza, dai servizi segreti militari o i servizi segreti civili. Cioè, quello che succede dentro Palazzo Chigi dovrebbe essere assolutamente blindate le linee telefoniche, le linee di internet, le linee aeree dell'aria condizionata, le linee elettriche, le linee dell'acqua. Palazzo Chigi dovrebbe essere uno dei luoghi più sicuri in Italia, se non proprio uno dei luoghi più sicuri in Italia, dove chi è lì dentro gestisce il paese, è la continuità del paese. Dovrebbe essere la Meloni la persona più protetta in Italia, ma non protetta solo da malintenzionati, protetta anche da quello che vi ho appena raccontato. E ti arriva uno scherzo telefonico, che poi magari non è uno scherzo telefonico. Quindi non è la segreteria della Meloni che doveva fare le intercettazioni, perché i segretari della Meloni sono persone che sono arrivate dieci mesi fa e sono lì per organizzare l'agenda della Meloni, le visite, la struttura, ma non sono mica degli agenti dei servizi segreti. Scusate, ma c'è da rimanere perplessi, ve l'ho detto anche in questi video oggi, quello che è successo è da rimanere a bocca aperta, è da rimanere a bocca aperta, è da rimanere davvero a bocca aperta. Quindi la Schlein in realtà non ha attaccato la Meloni, dice che assolutamente, dove sono le parole esatte, dice proprio così, ciò più che più successo sconcertante, non ha funzionato l'attività di filtro e verifica preliminare. Filtro e verifica, filtro e verifica. Ti chiama qualcuno, tu dici, guardi, la richiamiamo noi, fra un'ora, dieci minuti, la richiamiamo noi e prima di richiamare tu fai anche dei controlli banali. Da dove arriva la telefonata? Da dove arriva sto numero di telefono? E questo è il compito dei servizi segreti. Non riuscire a individuare una telefonata che arriva dalla Russia e non arriva da un paese africano, che non arriva dalla linea telefonica del palazzo presimedenziale di Cipalippa. Palazzo Chigi non è stato beffato da un sofisticato sistema di controspionaggio, qui è stato violato il sistema di sicurezza del Presidente del Consiglio da una banale telefonata da due russi che avevano pure l'accento e si sentiva perfettamente che erano russi. Seconda domanda che ho fatto io oggi, come mai la Meloni in questa telefonata con questo capo di Stato estero che probabilmente lei non conosceva, si è sottoposta a una specie di intervista interrogatorio? Perché se io sono il capo del governo italiano e ricevo la telefonata da un capo di Stato che non conosco, dico ah sì grazie, felice di conoscerti, ma perché mi chiami? Cos'è successo? No, volevo solo farti delle domande. Domande? Io avrei risposto, vuole farmi un interrogatorio? Già, ma anche mettendola sullo scherzo, cos'è questo? Perché alla prima domanda io avrei detto, ma scusi, magari di queste cose ne parliamo a quattro occhi quando ci vediamo, però così per telefono non credo che sia il caso che io riceva questo interrogatorio, sa, non si offenda, c'è anche modo poi, magari anche in un modo ancora più gentile del mio, perché io non è che poi ho tante buone maniere, però diamine, la falla dei servizi di sicurezza di Palazzo Chigi e la Meloni che risponde a una speggia di interrogatorio intervista. Sono due cose che sono successe in contemporanea. Arrivederci a tutti e grazie.